a tutti voi la più cordiale buonasera bentrovati al tg 2000 edizione delle 18 e 30 torna a far discutere il mistero della sindone secondo un'ultima ricerca internazionale solo alcune delle macchie di sangue presenti sul telo sarebbero compatibili con la posizione di un uomo crocifisso altre invece non trovano giustificazioni in nessuna posizione del corpo né sulla croce né nel sepolcro si riaccende dunque il dibattito intorno al sacro lino per una ricerca che secondo la comunità scientifica merita di essere approfondita ma che per dare risultati credibili necessita di un contesto più ampio e sicuro caterina dall'olio le tecniche utilizzate questa volta sono quelle dell'antropologia forense le stesse che gli appassionati di thriller e gialli hanno visto spesso su piccolo e grande schermo protagonista di ulteriori accertamenti la sacra sindone che la tradizione identifica come lenzuolo usato per avvolgere il corpo di gesù nel sepolcro un reperto che ha suscitato la curiosità di decine di scienziati che negli anni hanno utilizzato tutte le moderne tecniche di analisi per stabilirne la veridicità senza mai riuscirci compiutamente questa volta gli esperti sono matteo borrini antropologo forense dell'università di liverpool e luigi garlaschelli chimico e docente all'università di pavia che per provare la veridicità delle sue teorie ha fatto anche da cavia qui vedete le fasi dell'esperimento in cui borrini ha attaccato una sacca di sangue con cannuccio sul dorso della mano di garlaschelli per simularne la fuoriuscita e qui ci sarebbe la prima incongruenza se le macchie della sindone fossero vere le mani sarebbero dovute essere stese sopra la testa posizione strana per un cadavere avvolto in un sudario la ferita sul costato invece è stata simulata su di un manichino qui invece ci troveremo in perfetta congruenza con il lenzuolo ma si apre un altro dubbio quello sulla sottile linea all'altezza dei reni evidente sulla sindone questa non è un semplice tessuto ma un telo che contiene l'impronta di un uomo torturato e crocifisso che fino ad ora non si è mai riusciti a riprodurre con tecniche note all'uomo non è pertanto per nulla facile giustificare in modo logico la realizzazione di una tale impronta l'analisi più puntuale sulla reliquia è stata quella del 1988 con il metodo del carbonio 14 che circoscrisse l'adattazione della sindone tra il 1260 e il 1390 a più di mille anni di distanza dalla morte di gesù questo risultato è tuttora oggetto di dibattito tra gli studiosi l'adattazione medievale contrasterebbe con vari risultati ottenuti in altri campi di ricerca e inoltre è stato provato che contaminazioni di tipo biologico sono in grado di alterare considerevolmente l'età radiocarbonica di un tessuto la comunità scientifica è d'accordo su una cosa sarà molto difficile arrivare a una risposta definitiva sulla autenticità del telo e sul caso della sindone parla al tg 2000 il professore pier luigi baima bollone ordinario di medicina legale presidente onorario del centro di sindonologia di torino l'unica istituzione ufficiale che studia il sacro telo metodo usato non scientifico dice il professore lo ha intervistato giammario ricciardi ascoltiamolo dunque altri dubbi professore quelle macchie non sono sangue così dicono ma in realtà la scienza che ha studiato la sindone da cento e più anni a questa parte dice il contrario nel 1978 ho avuto il privilegio di dimostrare che si trattava di sangue e questo è stato confermato da una parte dell'altra dell'atlantico quindi si aggiunge un altro enigma al mistero della sindone no non si aggiunge nessun enigma i due ricercatori stimabilissime persone però hanno usato un metodo il quale è disatteso dall'accademia nazionale delle scienze statunitense perché lo giudica non attendibile a seguito di numerosi errori giudiziari e una fake news non è una fake news perché è stata citata dal maggior uno dei maggiori giornali e una delle maggiori riviste anzi il journal of forensic science del mondo però è criticabile sotto molti aspetti ne aggiungo un altro una illustrazione fa vedere la riproduzione di una fotografia della sindone del 1931 ce ne sono molti più recenti certo la sindone resta una grandissima icona che attrae comunque e provoca emozioni in milioni di persone l'ha fatto in tante ostensioni certo il valore della sindone e nella sua immagine dramma immigrazione nelle acque del mediterraneo la libia lascia morire in mare una donna e un bambino su un barcone in difficoltà la denuncia corredata da immagini verità arriva dalla ong spagnola open arms che ha salvato 158 naufraghi non ho mai detto di lasciare in mare gli esseri umani si difende salvini che però resta irremovibile i porti italiani gli ong spagnole li vedranno soltanto in cartolina intanto sarebbero 1443 le persone morte mentre tentavano di raggiungere in mare le coste europea indicarlo oggi l'organizzazione internazionale per le migrazioni seguiamo massimiliano cochi è viva presto tirala su urla il soccorritore mentre fra i detriti di un gommone ormai sgonfio e mezzo affondato viene recuperata una donna lì vicino su una tavola ci sono i cadaveri di un'altra donna e di suo figlio un bambino che aveva meno di cinque anni la superstite si chiama josephine camerunense agli occhi sbarrati e la temperatura corporea talmente bassa che se non fossero arrivati i soccorsi sarebbe morta nel giro di poche ore il bambino e sua madre invece non ce l'hanno fatta sulla pelle i segni delle ustioni causate dal gasolio e dall'acqua salata questo è quello che succede in mezzo al mediterraneo e a mostrarcelo in tutta la sua crudezza sono le immagini girate dai soccorritori della open arms la ong spagnola a cui nei giorni scorsi l'italia aveva negato la prode alla quale proprio questa mattina il ministro dell'interno salbini aveva ribadito la chiusura dei porti scrivendo li vedranno solo in cartolina gli spagnoli di open arms si erano portati sul luogo dove i libici avrebbero soccorso un gommone con 158 migranti 80 miglia a nord di tripoli e lì hanno girato queste immagini la guardia costiera libica ha lasciato morire una donna e un bambino e abbandonato un'altra donna in mezzo al mare hanno denunciato su twitter mettendo sotto accusa anche il governo italiano che ha deciso di affidare i soccorsi alla guardia costiera di tripoli questa è la conseguenza diretta della scelta politica di non permettere all'ong di salvare vite in mare ha detto il fondatore di open arms oscar cams bugie e insulti di qualche ong straniera dicono che siamo nel giusto al risposto su twitter salvini firmando oltre che con il solito porti chiusi con l'hashtag cuori aperti che però stona molto vicino alla foto delle due vittime salvini continua comunque ad insistere sulla soluzione libica aveva chiesto di considerare sicuri i loro porti ma l'unione europea ha dovuto ricordargli che quella non è una decisione politica puramente giuridica e spetta alla corte europea dei diritti dell'uomo allora oggi salvini ha minacciato se non arriveranno risposte concrete ci muoveremo da soli duro colpo contro il clan dei casa monica che spadroneggia nella capitale 31 arresti sei ancora ricercati 55 capi d'accusa fra cui traffico di droga estorsione usura con l'aggravante contestata per la prima volta al clan del metodo mafioso maria sarà farci agivano nella periferia sud est della capitale la base operativa era in un vicolo di porta furba nella zona apia tuscolana da sempre feudo della famiglia più potente di roma in casa monica a muovere le fila era giuseppe capo clan dell'omonima famiglia uscito dal carcere solo pochi giorni fa dopo dieci anni di detenzione è ritornato oggi insieme ad altre 30 persone 13 delle quali donne l'accusa aver creato un'organizzazione dedita allo spaccio all'estorsione e all'usura aggravate dal metodo mafioso non è un gruppo che ha soltanto una solidissima struttura organizzativa ma è un gruppo che ha come dire che collega che lega i suoi componenti anche da vincoli di sangue per questo di particolare importanza per le indagini sono state le dichiarazioni di due collaboratori di giustizia queste persone hanno ricostruito un po le dinamiche la storia l'operatività diciamo anche i fatti di cui sono stati in parte vittime in parte testimoni oculari sul territorio sono il pentito massimiliano fazzari e debora cerroni ex cognata di giuseppe casa monica a svelare fatti e retroscena del clan come quelli del funerale del capostipite vittorio che nel 2015 era balzato alle croniche per lo spettacolo che avevano messo in scena usura estorsione e droga il campo di azione del clan che si avvaleva dell'aiuto di una delle cosche di san luca per reperire la cocaina per questo a finire manette oggi c'è anche un affiliato dell'andrina degli strangio e alcuni membri del clan spada tra loro anche l'ex campione di pugilato domenico spada detto vulcano a cui è stata sequestrata la palestra sigilli anche in un centro estetico una discoteca un ristorante e a numerosi conti correnti riconducibili tutti agli affiliati del casa monica mille euro a rom per lasciare la città eterna parte il piano rimpatri annunciato da virginia raggi su facebook i primi 14 romeni sono già partiti scrive la sindaca il campidoglio incentiva così il rimpatrio assistito per riportarli in romania e punta a superare l'emergenza campi nella capitale beatrice bossi e quindi tu hai deciso quella che noi chiamiamo rimpatrio volontario assistito se le potrei tornare con il tuo marito e i tuoi figli in romania e quando parti l'emergenza nomadi il sindaco di roma prova a risolverlo così con un biglietto di sola andata per la romania e un sussidio per l'affitto che aiuti gli stranieri a casa loro sono 14 nomadi che secondo il campidoglio hanno accettato il cosiddetto rimpatrio assistito uno strumento ha scritto il sindaco raggi su facebook in grado di migliorare la vita di queste persone che contribuisce anche al superamento dei campi a roma sono 9 secondo il comune almeno 19 nella realtà sono abitati da 4.500 persone secondo il campidoglio più di 5.300 secondo le associazioni che si occupano della questione una guerra di numeri a cui la raggi risponde per il momento portando in romania una manciata di persone un primo passo probabilmente troppo piccolo per risolvere una emergenza che va avanti da decenni entro 48 ore comunque i nomadi del camping river dovranno lasciare le loro abitazioni venerdì arriveranno le ruspe e il sindaco raggi probabilmente avrà qualcosa di cui parlare con il ministro salvini che ha annunciato nei giorni scorsi una visita nella capitale al via questa sera il ciclo di audizioni sul decreto dignitale 20 e 30 i sindacati e mentre giovedì pomeriggio sarà la volta del presidente dell'inps tito boeri col quale in atto un duro scontro col governo nodo centrale le cosiddette causali legate ai rinnovi dei tempi determinati un bacino da 280 mila contratti su cui resta tutta da capire quali siano le reali intenzioni delle aziende federico plotti mentre l'iter del decreto dignità procede spedito in commissione a montecitorio governo e maggioranza puntano alla sua approvazione non più tardi dell'inizio della prossima settimana continuano le polemiche le discussioni che infiammano un dibattito che ormai non è più solo politico il presidente di confindustria boccia condivide il fine del provvedimento cioè quello come ribadito ancora ieri da di maio di ripristinare i diritti dei lavoratori ma non gli strumenti con cui si vuole attuarlo soprattutto il tema non è da poco è la questione della causale fino a 24 mesi il nuovo tetto massimo per un impiego a tempo determinato che il numero uno degli imprenditori italiani osteggia che vorrebbe cancellata da adesso i contratti a termine potranno durare massimo 12 mesi poi per essere rinnovati bisognerà indicare una causale specifica cioè il motivo per cui non diventano a tempo indeterminato e anche in quel caso si potranno prorogare al massimo per altri 12 mesi intanto ci attesa per l'audizione in commissione del presidente dell'inps boeri in programma per giovedì pomeriggio un'occasione di confronto su quello che il ministro del lavoro e dello sviluppo ha definito un tentativo di sabotare il provvedimento parliamo della stima apparsa nella relazione tecnica al provvedimento ribadita dall'istituto di previdenza smentita poi dal governo secondo cui le nuove norme potrebbero causare la perdita di oltre 8 mila possi di lavoro all'anno con i numeri bisogna sempre confrontarsi aveva replicato di mai aggiungendo che chi parla di 8 mila licenziamenti è in mala fede nei confronti del governo perché grazie agli effetti del decreto dignità quei contratti a tempo determinato in virtù degli incentivi potranno invece diventare tutti definitivi e fa già discutere la via imboccata dalle nazioni unite attraverso la sua agenzia sulla salute l'organizzazione mondiale per la sanità nella guerra a cancro e diabete adesso vengono inseriti anche vino olio d'oliva pizza e parmigiano il 27 settembre si deciderà se tassare pesantemente questi altri prodotti paragonandoli di fatto al rischio delle sigarette sandra pizzurro olio parmigiano e pizza da cibi principe della dieta mediterranea potrebbero venire tassati come le sigarette perché come queste potrebbero nuocere alla salute è una risoluzione dell'onu attraverso la quale si legge si vorrebbero scongiurare malattie non trasmissibili come diabete e cancro contrastando il consumo eccessivo di prodotti che contengono grassi saturi sale e zuccheri l'obiettivo dell'organizzazione mondiale della sanità e dell'onu è ridurre di un terzo i morti per queste malattie entro il 2030 la proposta che ha precedenti in francia in inghilterra anche se con modalità diverse potrebbe coinvolgere ora l'italia ricordo che la dieta mediterranea con i suoi prodotti ha un export di oltre 40 miliardi di euro naturalmente questo significa produrre significa permettere alle nostre aziende di vivere e contro naturalmente a questo sistema che vuole comprimere quelli che sono gli alimenti naturali perché qui ci sta un fatto molto importante a chi avvantaggia una situazione di questo genere certamente l'industria chimica quella che attraverso degli additivi o dei conformulanti di un certo tipo tende a sostituire i prodotti che contengono grasso zucchero e sale e quindi tende magari a proporre l'aspartame che è un prodotto chimico tende magari a produrre degli additivi o dei coloranti per in un qualche modo farci consumare attraverso questo sistema delle schifezze Anche il ministro dell'agricoltura Gianmarco Centinaio commenta duramente la decisione dell'OMS e dell'ONU C'è la volontà di ridimensionare i prodotti italiani e di conseguenza siamo sotto attacco e io da ministro dell'agricoltura continuo a dire che se siamo sotto attacco contraattacchiamo Prosegue l'offensiva di Israele lungo i confini con la Siria per respingere i profughi che premona le frontiere sulle alture del Golan il disperato tentativo dei civili di forzare il passaggio ma ogni via d'accesso è bloccata non mancano tuttavia gesti di solidarietà come ci racconta Maurizio Dischino Gli sfollati siriani non si sentono più sicuri neanche nei campi improvvisati nel sud ovest del paese al confine con Israele e Giordania L'offensiva contro i ribelli da parte dei militari di Damasco e dei rinforzi russi nell'area di Dara infatti sta spingendo i civili a lasciare le tende e a tentare di scappare verso i paesi confinanti ma a ridosso delle alture del Golan, terre occupate da Israele nel 1967 trovano i soldati israeliani pronti a respingerli Buongiorno gente, tornate indietro prima che accada qualcosa di brutto ha gridato oggi un militare con il megafono nei pressi di Birajam Gli sfollati siriani questa mattina hanno risposto sventolando teli e magliette bianche ma i soldati israeliani sono stati irremovibili non vogliamo colpirvi per il vostro bene, tornate indietro Il 4 luglio scorso, sempre davanti alle alture del Golan durante un'altra protesta, gli sfollati siriani si sono rivolti anche a degli osservatori ONU per chiedere di fermare l'offensiva russa in Siria In quell'area infatti dal 1974 esiste una forza di disimpegno degli osservatori delle Nazioni Unite che fa da cuscinetto tra Siria, Libano, Israele e Giordania Lungo il versante siriano delle alture del Golan 320.000 sfollati adesso hanno paura a sentirsi schiacciati contro le frontiere di Israele e Giordania Uno dei pochi sollievi lo ricevono proprio da attivisti israeliani i quali raccolgono indumenti e quanto può essere necessario agli sfollati attraversano il confine e vanno nei campi Mi preoccupo del popolo siriano perché sono i nostri vicini confida Gila, Ron, Saada li guardo come esseri umani che non vogliono essere in guerra non scelgono di stare in questa situazione e noi dobbiamo aiutarli Si è chiusa con un nulla di fatto anche la riunione di questa mattina a Benevento sul futuro del centro per disabili non sono mancati attimi di tensione al termine della marcia di protesta alla quale hanno partecipato numerosi disabili con le loro famiglie il centro resta aperto ma non ci sono più fondi per nessuna attività Gaia Martignetti È la mia casa, è la mia famiglia, là sono cresciuta ho trovato degli amici, ho trovato uno sfogo è una questione di giustizia, di solidarietà, di cuore non è possibile che venga chiuso dove vanno quelli che stanno sulla sedia a rotelle? O gli operatori, o gli volontari? Che faranno della loro vita? E anche io, che farò? Dove andrò? Non è possibile che venga chiuso La rabbia di Donatella è quella di chi chiede di non essere lasciata sola una richiesta semplice che arriva da uomini, donne e ragazzi che lottano perché questo centro polivalente non venga chiuso a causa di un'intricata vicenda burocratica e per mancanza di fondi A Benevento, con una marcia silenziosa e pacifica le famiglie hanno chiesto che il centro più bello insieme resti aperto perché questo luogo, come spiega chi lo frequenta da tempo è l'unico punto di riferimento nel Sannio Nei giorni festivi, io per dimostrargli che il centro è veramente chiuso devo portarlo qui davanti lei, se gli dica andiamo a una pesta, o vai al centro o vuoi venire al centro ed è una di quelle che viene da 12 anni qua non è che è un giorno, per lei è un'altra famiglia avere i nostri figli rappresenta la vita, un modo per socializzare, un modo per stare insieme un modo per sentirsi importanti ci dà la possibilità un poco di far vivere ai ragazzi una vita diversa da quella che è la vita giornaliera che può essere in casa il centro resterà formalmente aperto ma per il momento il comune di Benevento non potrà anticipare soldi per i voucher necessari per il pagamento dei lavoratori una situazione che va avanti da tempo e a farne le spese ancora una volta sono i disabili cento anni fa l'eccidio in Russia della dinastia imperiale dei Romanov una delle più cruente stragi familiari compiute dai rivoluzionari bolshevichi che ammazzarono Nicola II, la sua moglie e i loro figli i loro cinque figli nessuna commemorazione da parte del Cremlino ma la chiesa ortodossa li venera tutti come santi già dal 2000 Antonello Carvigiani Eccola la famiglia Romanov al completo Nicola II, sua moglie Alexandra e cinque figli Olga, Tatiana, Maria, Anastatia e Alexei in questa riproduzione i loro volti si oscurano poco a poco in ricordo della notte tra il 16 e il 17 luglio 1918 in cui la famiglia venne giustiziata dai rivoluzionari bolshevichi a Ekaterinburg mettendo fine alla dinastia che guidò l'impero russo per 300 anni nella stessa cittadina russa quest'anno, nella notte scorsa oltre 100.000 persone si sono riunite in processione per commemorare il centenario dell'assassino dell'ultimo zar e la sua famiglia quando pensiamo all'omicidio di questa famiglia racconta questa donna durante la processione viviamo un grande dolore ma allo stesso tempo, vedendo questo grande numero di credenti comprendiamo che la Russia è viva Nicola II, oltre ad essere zar, era anche il capo della chiesa ortodossa la famiglia imperiale fu canonizzata nel 2000 dalla chiesa ortodossa russa e nel 2008 la Corte Suprema russa la riabilitò giudicandola una vittima della repressione politica bolshevica il patriarca Kirill ha guidato la processione sino al monastero di Gianinayama dove la chiesa russa ortodossa crede che vennero sepolti i corpi dei Romanov e proprio riguardo i resti presunti della famiglia si è aperto un conflitto fra lo Stato e la chiesa ortodossa ma nuovi test del DNA sui resti della famiglia imperiale hanno confermato la loro autenticità la disputa sui Romanov resta alla commemorazione infatti non era presente il governo russo con Putin impegnato ufficialmente nel vertice con Trump il servizio lo ha firmato Daniele Bungaro noi ci fermiamo qui, ora c'è il nostro TG Post a firma di Leonardo Possati dedicato a un approfondimento sul debito pubblico con l'economista Carlo Cottarelli ieri la prima parte col punto su cos'è e su quanto ammonta oggi contromisure e interventi possibili per arginare il rischio più alto cioè fine spesa mai il TG 2000 torna alle 20.30 buona visione, arrivederci